attenzione che c'è è così che fissa mollala mollala 17 piante non lo vedi ma motivazione facci le foto ma non vuoi chiesti che c'è l'auto che non le ha detto nel momento che ci non è vero perché lo devo vedere ci vuoi? io sappiamo che dobbiamo andare a fare questo non è vero non ho visto che c'è un rumeno quando andiamo venendo a Catania rumeno fino a due mesi fa l'ho visto un po' vero l'età di 25 22 anni che vuole anno se sembra? ora non lo sa perchénantì la vabbè non lo sa fatiga a la mano in la letra Grazie a tutti.